Anticipazioni Endless Love, le puntate settimanali ti lasceranno senza parole. Nella puntata di lunedì, Emir rivela al padre il suo piano per attaccare Kemal e farlo cadere in trappola, ma ignora che proprio nello stesso momento il suo ideere insieme ad Ayan sta organizzando un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin. Nihan, invece, confessa a Leila che Kemal l'ha baciata e la donna ricorsa alla Sezin tutti i pericoli a cui potrebbe esporre se stessa e Deniz a causa di questo riavvicinamento. Sconfortata, Asu incontra Nihan per scoprire se Kemal ha voluto annullare il matrimonio per colpa sua. Kemal inizia ad indagare sul commissario Hakan scoprendo che, nonostante le sue risorse economiche siano limitate, è riuscito a pagare un costoso intervento chirurgico al fratello. Possibile che Emir lo abbia aiutato per poi costringerlo a ricambiare il favore? Kemal si accorge che il nuovo autista di Nihan è proprio il fratello di Hakan e crede che sia stato scelto da Emir così da controllare gigli spostamenti della moglie. Informata del fatto, Nihan coglie l'occasione di mantenere la promessa fatta a Fehime e si tiene ben distante dal suo ideere. Mentre Nihan si sforza di far funzionare il matrimonio con Emir dopo aver scoperto lo scontento del marito, Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep e scoppia una discussione molto violenta tra le due, sedata da Fehime che prende le difese della figlia. Dopo essersi accordato con Kemal, Aihan pianifica il sequestro di Reshat, la sua sparizione all'arma Emir, che ordina a Tufan di trovarlo al più presto. Prima di continuare, se vorresti ricevere nuove anticipazioni in anteprima, scrivi «sì» nei commenti, riprendiamo. Asu è sconvolta, disperata per essere stata piantata in asso da Kemal prima delle nozze e suo fratello Emir vuole aiutarla. Per farlo, l'uomo chiede ai giornali di pubblicare la falsa notizia che sua sorella è in attesa di un figlio dal soidere, ma questa mossa avrà effetti indesiderati. Pensando che sia stata proprio Asu a mettere in giro queste voci, Kemal si infurierà con lei, facendole notare che non è questo il modo per riconquistarlo. Nel frattempo, Zeynep incontra Hakann di nascosto, ma viene sorpresa sul fatto dalla madre che diventa una vera e propria furia. Così, per giustificare la sua assenza dall'asilo dove lavora, Zeynep spiega a Fehime di averle nascosto tutto perché la relazione con Hakann è ancora nuova e, prima di dire qualcosa in famiglia, voleva essere sicura dei propri sentimenti. Zeynep prega a sua madre di non dire nulla della relazione con Hakann ai fratelli, mentre Galip riceve un'altra segnalazione dall'agenzia ispettiva di Kemal perché il progetto per il quale ha vinto l'appalto presenta ancora importanti irregolarità. Così Galip, d'accordo con il figlio, finge di arrabbiarsi molto con Kemal per poi informare Emir del successo ottenuto con quella finta scenata. Dal momento che ha tradito Kemal, Emir vuole far partire al più presto Reshat e G.L. consegna una valigetta piena di denaro. Galip, nello stesso momento, ha accettato di inscenare il proprio rapimento e si fea trovare da Kemal nel magazzino di Zehir. Nihan, invece, segue suo marito e arriva nel magazzino dove si sta tenendo lo scambio tra Emir e Reshat, ma, inavvertitamente, fa rumore e mette in allarme i due uomi che si mettono alla ricerca dell'intruso. Nella fuga, Nihan si chiude in fretta e furia nella ghiacciaia e rimane bloccata dentro, tentando di chiamare Kemal prima che sopraggiunga l'ipotermia. Se vorresti il continuo della storia, commenta con Sì!